Ben trovati a tutti gli amici ascoltatori di Science Web Network, questo è Spazio Aperto, in compagnia di Antonella Intranò, Ugo Lombardi, salutiamo Rosario Moreno dalla regia centrale di Treviso, ciao Rosario, ben trovato, buonasera a tutti quanti, e ben trovato anche a Massimo Bonella, direttore di pianetaoggtv.net da mestre, ciao Massimo, buonasera direttore, grazie per il direttore, potete chiamarmi semplicemente Massimo da Venezia, dalla redazione di pianetaoggtv.net che vi do assoluto le ultime notizie, dunque come sapete c'è stata una scossa di terremoto nell'Alto Veneto, nella mattinata di ieri, con epicentro, scusate con ipocentro, molto superficiale, a circa due chilometri, in località Colbertaldo di Vidoro, siamo praticamente a nord-est della provincia di Treviso, un sisma che si è sentito in tutta la marca trevisiana, fino in località ponte di Piave. Non solo, nel veneziano, qui da noi, hanno cominciato a muoversi i lampadari, però non si sono registrate situazioni né di panico né di tantomeno danni a persone o a cose. Però a tale proposito, siccome proprio dove c'è l'epicentro, che ricordo la magnitude è stato 3.5 e chi dice invece 3.7, insomma la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Sentiamo a tale proposito, attraverso il telegiornale di Eden TV, cosa ha detto la gente, intervistata dal giornalista di questa emittente, che trasmette proprio da Colbertaldo, proprio dall'epicentro del terremoto. Solo un attimo, vediamo se la regia qui di Venezia ci dà questo contributo in collaborazione con Eden TV. Solo un attimo. Mi sono capotata da letto sul serio perché ho preso tanta di quella paura, però mio marito che dormiva in fianco, per esempio, lui non l'ha sentito. Io però mi sono proprio svegliata, svegliata, sì sì. Guarda, io ho una amica che stamattina l'ho vista e mi ha detto no, il mio comodino tremava e il telefono, il cellulare in cima vibrava tutto. Ho preso paura, sono alzata e sono andata a guardare in giro cosa è successo. Ma un bel boato e poi uno scossone, il letto matrimoniale, poi basta, è finito, non ho sentito più niente. A Vittorio io abito a Cornuda e ho sentito uno scricchiolio come dell'armadio. Un casino numero uno, un rumore numero uno e dopo patapum patapim patapum e insomma ho già paura del demonio. Secondo gli esperti si tratta della scossa più forte registrata negli ultimi trent'anni. Dunque, avete sentito, ritorniamo quindi qui in studio, stacchiamo questo collegamento con Eden TV, con il telegiornale. Ecco, avete sentito anche dal corrispondente della televisione di Colbertaldo che questo è stato un sisma che da trent'anni non si era mai sentito così forte. Ricordiamo l'ultima scossa avvertita distintamente, è stata nel giugno del 2010 con magnitudo 2.9. Detto questo, ricordiamo che non ci sono state problematiche particolari assolutamente, né danni alle persone né danni alle cose. Vi do un'altra notizia prima di dare la parola ad Antonella Intranò e Ugo Lombardi. Dunque, ci spostiamo al sud, Bari, dunque un aggiornamento per quanto riguarda il traghetto incendiato, dunque il traghetto Francesca, così si chiama, della linea Adria-Ferries partito da Bari e diretto a Durazzo, a bordo del quale stanotte si è verificato un incendio controllato e spento dall'equipaggio e rientrato da Bari. L'incendio sviluppato in sala macchine a 7 miglia dal porto pugliese non ha avuto conseguenze per le 260 persone, tra cui 70 italiani e i membri dell'equipaggio che si trovavano a bordo. Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta, i passeggeri ripartiranno per Durazzo intorno a mezzogiorno, praticamente sono già partiti e sono stati quindi caricati in un'altra nave. Lo ha fatto sapere a Rai News 24 il presidente dell'autorità portuale Mariani. Dunque, vediamo se abbiamo qualche ultima ora, ma non credo, c'è un'ultima ora dove si parla di Renzi che dice che è urgente alternare scuola e lavoro. Su questo comunque magari ci ritorneremo nell'edizione delle 22, nel frattempo la linea da Venezia torna a Bari. Antonella Intranò e il dottor Ugo Lombardi per la conduzione di Spazio Aperto, un saluto naturalmente alla regia centrale di Treviso a Rosario Moreno. A voi. Bene, grazie Massimo per gli ultimi aggiornamenti. Entriamo nel merito della trasmissione di questa sera. Ricordo innanzitutto ai nostri ascoltatori che possono interagire con noi, partecipare dando le loro opinioni, chattando direttamente sul sito di Science Web Network o chiamando in diretta allo 0422 1626 622. Bene, ospite di questa sera è la dottoressa Sabrina Garofalo, sociologa, docente a contratto presso l'Università di Catanzaro. Benvenuta. Grazie, buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito naturalmente. Grazie, grazie a voi. Dunque, dottoressa Garofalo, la trasmissione di questa sera nasce da una domanda sostanzialmente. Tutti noi ci stiamo rendendo conto di quanto stia diventando complicato il vivere quotidiano, soprattutto i rapporti interpersonali stanno diventando davvero molto difficili. Si avverte una certa tensione, una tensione sociale molto forte, tanto da indurci a essere un po' tutti sulla difensiva. Quindi la domanda che nasce e che ha voluto caratterizzare la trasmissione di questa sera e che le desideriamo porre, secondo lei, dal suo punto di vista, quindi da sociologa, che direzione sta prendendo la nostra società? Verso quale assetto ci stiamo dirigendo? La domanda è difficile da declinare oggi come oggi e non lo è per un sociologo. Il sociologo non ha capacità di previsione né altro. Io studio e faccio ricerca sui temi delle migrazioni e sui temi della costruzione sociale dell'alterità. In questo momento, alla luce di quello che sta succedendo, mi sento chiaramente di rispondere rispetto a quelli che sono i miei studi e la mia ricerca, altrimenti non faremo la differenza. Ne approfitto e parto da un seminario che abbiamo appena terminato in merito a questa che è la settimana contro l'omofobia, perché la riflessione da cui sono partita oggi parlando di tensioni sociali è come viene costruito il discorso pubblico sui temi delle differenze in generali, come si sta costruendo un discorso pubblico in cui la dinamica di potere, di dominio è trasversale a tutti gli ambiti. Pensiamo al conflitto sociale e al dibattito mediatico che si sta costruendo e che viene costruito quotidianamente sui temi delle migrazioni. Pensiamo ai temi, a come viene affrontato il Mediterraneo. In queste ore si sta discutendo come procedere a livello internazionale su queste tematiche. Tutto ciò ha nella vita quotidiana dei risvolti fortissimi, perché la vita quotidiana è fatta di costruzione di senso comune, è fatta di dare per scontato delle cose. Allora, continuare a porci domande, perché probabilmente il ruolo del ricercatore sociale è questo e non è quello di dare delle risposte, dovremmo interrogarci su come in questo momento si stia costruendo un discorso pubblico che non mette in campo le persone, che non mette in campo la vita quotidiana delle persone, i bisogni. Per cui, dovendo rispondere a dove va la società, a che direzione prendiamo, possiamo pensare al mondo del lavoro, possiamo pensare alle migrazioni, possiamo pensare agli atteggiamenti di omofobia, a quella che è anche stata costruita proprio oggi come l'ideologia gender. Insomma, ci sono tanti ambiti su cui dovremmo riflettere. Sì, infatti, il discorso è decisamente ampio e non è pensabile naturalmente di risolverlo con una sola trasmissione. Certo, i punti totali in questo momento sono proprio quelli che lei metteva in evidenza, cioè l'immigrazione e la conseguente tensione che si viene a creare. Il meridione d'Italia vede in questo momento una presenza davvero importante di immigrati. Si potrebbe parlare di esodo, praticamente, perché è una situazione di costante e continua emergenza, ma quelle che poi sono le dinamiche che si vengono a creare stanno decisamente minando la tranquillità della collettività. Dal suo punto di vista quali sono le ragioni di questo netto rifiuto? Noi stiamo vivendo come nazione un momento molto difficile, soprattutto i nostri ragazzi non riescono a trovare una collocazione professionale e molto spesso l'immigrato viene visto come colui che viene a toglierti il lavoro. Ma è solo questo che determina una grande distanza fra chi accoglie e l'accolto o ci sono altre ragioni? Una diversità culturale, non saprei. Il tema è chiaramente da affrontare a livello multidimensionale. Io parto da un semplice persupposto, non parto io ma prendo chiaramente il mio bagaglio di riferimento che è un bagaglio teorico. Intanto le immigrazioni sono un fatto politico totale, con questo dobbiamo fare i conti. Lo dobbiamo fare i conti come società che accoglie. L'altro aspetto che dobbiamo mettere subito in campo è che noi abbiamo un punto di vista situato. Parlo di noi nel Mediterraneo, parliamo dell'Italia ma parliamo anche del sud Italia in particolare in queste ore, ma non solo. Dobbiamo pensarci in quanto soggetti situati e in questo essere comunque al margine, comunque al confine, che è un confine fisico, ma è anche un confine e una marginalità che noi viviamo appunto nella nostra quotidianità, laddove c'è una fragilità nel mondo del lavoro, laddove le povertà assolute relative stanno raggiungendo livelli altissimi. Io porrei la questione da un punto di vista situato, facendo però un richiamo forte al tema della memoria, perché noi non facciamo, non abbiamo fatto memoria della nostra storia che è una storia migrante, una storia di emigrazione e di immigrazione, ma soprattutto non facciamo memoria di quello che sta succedendo in queste ore. Lei giustamente prima ha messo a tema la questione dell'emergenza. Ogni volta che c'è un naufragio in mare parliamo di emergenza, ogni volta parliamo di un nuovo naufragio e questo è, non riusciamo, su questo dobbiamo interrogarci molto da sociologi, soprattutto da cittadine e cittadini, a rielaborare un lutto che è quotidiano. Noi dobbiamo fare i conti con donne, uomini che muoiono nel Mediterraneo, dobbiamo fare i conti con un sistema di riconoscimento che è anche un'eredità coloniale. Su tutto questo dobbiamo poi ovviamente fare anche un mea culpa, capire quali sono i meccanismi anche per cui non si elabora questo tutto. Io ho avuto la fortuna di studiare le migrazioni dal punto proprio di vista del Mediterraneo, girando un po' anche per i luoghi di frontiera e parlo di Lampedusa perché è un luogo emblematico anche che è eletto a simbolo di questa nazione. E partire dalla quale le migrazioni da Lampedusa significa mettere in gioco il cosiddetto italiano, mettere in gioco il cosiddetto migrare, mettere a lavoro i concetti di vicinanza e intonanza. E allora solo facendo così noi possiamo fare memoria, elaborare cosa sta succedendo, non più ricordare ma mettere in pratica quello che succede e attivare meccanismi che sono meccanismi di accoglienza nel quotidiano come ci insegna Lampedusa, ma come ci insegnano tutti i loro frontiera, ma che è un'accoglienza che deve diventare prioritaria nella genera politica internazionale. Perché le migrazioni, migrare, non possiamo chiudere la possibilità del viaggio. Se noi ci rendessimo conto dei motivi per cui questi giovani sono costretti a partire, laddove la costruzione non è, la costruzione è guerra, violenza e fame, ma è anche bisogno, necessità, è anche desiderio di costruirsi una vita, è anche sogno, è anche speranza. Però forse se ci rendessimo conto che siamo tutti donne, uomini in un contesto di frontiera che sogna semplicemente una vita migliore, potremmo anche attivare appennismi di accoglienza dal locale al globale, più umani. Il operativo di restare umani che ci ha lasciato Arrigoni non è uno slogan, ma è un vero e proprio modo di vivere e di conoscere l'altrità e le relazioni. Senz'altro, lei diceva che ha avuto la possibilità di visitare i luoghi in cui arrivano alla grande maggioranza di queste persone che sono alla ricerca di una stessa vita sostanzialmente. Con la sua esperienza, cosa le ragioni sono le ragioni che lei ha registrato come più frequenti e che motivano sostanzialmente il lasciare la propria terra? Perché qui, appunto, come lei giustamente diceva, si tratta di una situazione di emergenza praticamente quotidiana, ce lo palestano sempre, ce l'ho fatto notare sempre, lo sottolineano, ma nessuno ci spiega in effetti quali sono le reali ragioni. Ci parlano di guerre, di fame, di povertà, ma lei che ha avuto un'esperienza sul campo, può uscire un quadro di quella che è la reale situazione? Guardi, intanto torno su una questione che è una questione di metodo e di riconoscimento. Troppo spesso noi non ascoltiamo i migranti, nel senso che è difficile ascoltare la loro naturazione, il loro punto di vista sulle migrazioni e questo è tipico di un approccio, diciamo, di un'eredità anche coloniale, per cui c'è un paese che accoglie rispetto a un altro paese da cui queste persone partono. Per questo anche l'importanza del linguaggio, il linguaggio è il primo campo del potere, noi parliamo di migranti, non più di emigrati o immigrati, proprio per allontanarci dalla dimensione dello status e dell'identità, che in fondo è una trappola, pensiamo alla costruzione dell'identità di clandestino, è una costruzione sociale legittimata dalla normativa. Per ascoltare queste nazioni, c'è chi più di me ha scritto e raccontato i paesi da cui partono i migranti, sicuramente parliamo di la prima parola, ragionando per concettiare che mi viene in mente, è quella della violenza, perché comunque abbiamo a che fare con contesti in cui la violenza è trasversale alle povertà. Parliamo di, mi vengono, mi viene in mente, perché poi quando si parla e si corre il rischio di fare teoria, ma mi viene in mente una storia di una giovane donna lampedusa, nigeriana, costretta a partire per in quanto vittima di violenza, è morta sulla nave Pilar e questa ragazza di 19 anni è seppelita a lampedusa. Qual era il sogno di Pilar? Quello di scappare dalla violenza e dalla guerra, ci lo dimostra quello che succede in questo momento che sta succedendo e che purtroppo non viene raccontato, quindi anche lì le fonti sono molto lontane dal reale, però dobbiamo riflettere su quali sono le cause e io ho avuto modo poi di incontrare, veramente sto andando così in modalità, flusso di pensieri, molti ragazzi tunisini, molti ragazzi tunisini che sono partiti per inseguire il sogno di un paese, quello l'Italia in cui essere dei giovani liberi, il sogno della libertà, poter anche dire e fare quello che si vuole dire, la libertà di pensiero e di espressione, poter anche realizzare un sogno di vita, un progetto lavorativo, non sento più. Non sentire comunque un progetto di vita, un sogno, non diamogli per scontati quelli che sono gli elementi della vita quotidiana, perché quelli che partono sono soprattutto giovani, io ho incontrato tanti ragazzi che sono arrivati in Italia col sogno di fare il falciatore, perché anche quello è uno dei modelli che noi portiamo, non possiamo porci da un punto di osservazione che può essere quello del pensare alle motivazioni come a qualcosa di secondario nella razione delle migrazioni. No, assolutamente no, proprio per questo era importante mettere in luce quelle che sono le ragioni, perché alla fine i modelli che noi abbiamo esportato sono questi, per cui è umano che un altro essere umano desideri giungere a quel tipo di traguardo, non è concepibile naturalmente per loro osservare una certa opulenza, una certa giatezza, anche se molti nostri connazionali, sottolineamolo, non si trovano in questa situazione. Infatti parliamo di rappresentazione rispetto anche a mediatica, quella che è la vita in Italia, rappresentazione, comunque parliamo di un concetto che è quello della deprivazione relativa, per cui si parte con delle speranze che magari non sono speranze costruite socialmente e mediaticamente, a volte quasi sempre non corrispondono con reale, è anche vero, e questo dobbiamo sempre ricordarlo che l'Italia è vista come un paese di passaggio, il ruolo geopolitico dell'Italia in questo caso è ancora più importante perché siamo in mezzo al Mediterraneo, quando io dicevo dobbiamo essere situate e situati, dobbiamo pensare anche a questo, alla nostra collocazione geografica e di conseguenza politica rispetto a come osservare prima e poi eventualmente proporre le politiche sul Mediterraneo, nel fatto di cui stiamo parlando. Certo. Dottoressa, sono Ugo Lombardi, ci siamo presentati prima. Sì. La considerazione che mi viene spontanea è che anche se la nostra nazione è una nazione di passaggio, infatti negli accordi in itinere con la comunità europea mi pare che si parli di una distribuzione numerica di un numero di migranti per ogni paese della comunità, però mi viene in mente di pensare che il flusso migratorio è comunque sempre orientato verso i paesi che hanno raggiunto un modo di vivere democratico sicuramente più avanzato rispetto agli altri. È come se ci fosse un movimento centrifugo, al di là di quelle che sono le motivazioni, la guerra o non guerra, c'è un movimento centrifugo laddove la democrazia è riuscita a stabilire meglio le sue fondamenta, perché anche noi siamo un popolo tuttora di migranti. Certo. Allora a questo punto credo che si debba innescare un meccanismo contrario, cioè dobbiamo fare in modo che ci sia democrazia dovunque e questa non si raggiunge soltanto con l'ospitalità, non crede lei? Allora io mi trovo in questo momento in forte difficoltà nell'identificare l'Italia come un paese pienamente democratico, però parliamo in tutta sincerità, parliamo di modelli di riferimento, chiaramente parliamo anche di diversi tipi e di percorsi democratici che i diversi paesi stanno anche a fatica, con molta fatica compiendo. Sicuramente, e questo viene dalla narrazione dei racconti di vita che ho potuto raccogliere soprattutto, la possibilità, e si vede ad esempio in alcuni paesi del Maghreb, la possibilità di parlare, la possibilità di esprimersi, di esserci in quanto cittadine e cittadini riconosciuti, questo noi tendiamo a darlo per scontato, sempre se ci poniamo in una dialettica noi loro, però non diamo per scontato proprio le libertà di base, perché quando parliamo di motivazioni dobbiamo, secondo me, semplicemente anche accostare alla parola motivazione la parola possibilità. Qual è la possibilità reale di miglioramento, di stare meglio, di stare bene o di sopravvivere in base alle diverse situazioni? Quella di partire. Allora molto spesso si chiede ai migranti chi te la fa fare, sapete c'è la possibilità di morire, però chi siamo noi per poter chiedere perché lo fai? Magari proprio quelle libertà che noi diamo per scontato, che comunque in questo momento non iniziamo più a dare per scontato, dovrebbero essere anche un ennesimo tema su cui riflettere quando parliamo di motivazioni, di possibilità che poi diventano opportunità, perché la speranza di miglioramento è dettata da questo. D'altra parte credo che la posizione dei giovani italiani rispetto a coloro che arrivano qui dal sud del mondo sia ormai equiparabile in un certo qual senso. Intendo dire che i nostri ragazzi e le nostre famiglie, perché dobbiamo parlare anche delle famiglie naturalmente, non hanno molte possibilità di scelta oggi come oggi, come gli immigrati non ne hanno nel loro paese. Verrebbe quasi da pensare che noi siamo stranieri in patria perché comunque non riusciamo ad avere un riferimento univoco che sia davvero accogliente, non siamo accolti nel nostro paese. Questo secondo lei contribuisce a creare quella distanza, quel rifiuto da parte della società ad accogliere coloro che arrivano da realtà molto più complicate? Simmel ci ha insegnato come lo straniero ha sempre a che fare con la costruzione sociale dell'allontananza e della vicinanza, che non è soltanto geografica ma è proprio in termini situazionali. Ci sono dei bellissimi studi su quelli che vengono chiamati gli incontri tra le fragilità. Pensiamo ad esempio alle migrazioni nel sud Italia, quello che lei faceva riferimento, io parlo da situata perché ho fatto ricerca qui quindi non riporto quella che è stata la mia esperienza di ricerca. L'incontro fra fragilità, l'incontro tra soggetti vulnerabili, a cosa porta? Questa domanda ci porta poi a formulare diverse ipotesi che andrebbero e che sono in corso di verifica sul campo, perché da un lato si potrebbero attivare dei meccanismi di riconoscimento reciproco, quindi di condivisione, di ragioniamo su che cosa tiene ancora insieme questa società. L'incontro fra le fragilità è un potenziale immenso, se lo ponessimo in relazioni alle dinamiche di cooperazione ad esempio, o alle dinamiche di condivisione di singoli percorsi, anche di quella che qualcuno ha definito la convivialità delle differenze. Dall'altro è con una frase che troppo spesso viene detta, è una guerra fra poveri, laddove i contesti marginali sono contesti forti, sono contesti radicati e in un sistema di allocazione di risorse sempre è comunque molto debole, in cui la dimensione lavorativa è debolissima, in cui parliamo veramente di livelli minimi di sopravvivenza e che è una situazione comune. Da questa situazione comune può scaturire chiaramente il conflitto, perché appunto la costruzione anche del dibattito pubblico, tra virgolette ci rubano il lavoro, significa anche questo, avere paura, oppure tutti i termini legati a invasione, tutti i termini che connotano il fenomeno migratorio negativo non aiutano a una dinamica di riconoscimento che può essere reciproco. Dottoressa, mi viene in mente di pensare che se non siamo molto bravi, noi nel nostro territorio, parlo del territorio italiano, potrebbe succedere che anche noi, se adesso lo facciamo in maniera molto soft questo fenomeno, io sono stato in diversi paesi europei e ho trovato grosse fette, grosse comunità di ragazzi italiani collocati dovunque, soprattutto nei servizi, quindi secondo lei se dovesse peggiorare lo stato, fra virgolette, democratico che stiamo cercando di conquistare in questo paese, si potrebbe creare dalle nostre parti un costituzionatorio pari a quello che noi subiamo dalla zona africana? Io non so, questo non lo so, non mi occupo di questo, quindi direi, farei semplicemente opinione. E' chiaro che le dinamiche di… le popolazioni sono in continuo mutamento, in continue migrazioni. Io spero, la mia speranza è quella che si possono comunque attivare dei meccanismi di resistenza anche dal basso, dei meccanismi di rielaborazione delle politiche, mettere a tema cosa intendiamo per sicurezza, ad esempio, cosa intendiamo per lavoro, ripensare un'alternativa, il rischio della crisi democratica che esiste ed è reale, con cui facciamo i conti quotidianamente, io penso che non siano comparabili, io poi non sono una sociologa politica, però non credo siano comparabili le due dimensioni, quello che accade e che è accaduto nei paesi del Maghreb in generale, ma così in tutte le regioni del cosiddetto Nord Africa. Io non credo, noi abbiamo a che fare con altri fenomeni, abbiamo un altro percorso storico, politico, abbiamo un altro percorso geopolitico, per cui sicuramente dobbiamo stare attenti, dobbiamo riconoscerci, attivare dei meccanismi veramente di rielaborazione anche politica che possono venire dal basso, possono venire da nuove forme di partecipazione, su questo ci dobbiamo interrogare. Infatti la domanda era propedeutica a quella che sto per farle ora, perché quando vedo che, per esempio negli Stati Uniti, dove sono molto più avanti o dovrebbero esserlo nel processo di integrazione, vengono sparati i ragazzi di colore, magari senza alcuna remora, mi chiedo se il processo di integrazione che stiamo cercando di raggiungere noi sia stato raggiunto in altri paesi che da molti più anni hanno subito e continuano a subire questo fenomeno. Intanto dobbiamo metterci d'accordo su che cosa intendiamo per integrazione e se è realmente quello che vogliamo. Io penso che ci sia la consonante che faccia la differenza che sia nella G, perché l'interazione è una cosa, l'integrazione ha sempre a che fare con modelli di potere e di dominio. La situazione negli Stati Uniti è una situazione che nasce da meccanismi diversi, da ordinamenti politici diversi, da una storia politica diversa che non è praticamente solo di emigrazione. Quando si fa riferimento alle politiche e ai modelli di politiche emigratorie non si possono paragonare, noi pensiamo agli Stati Uniti ma pensiamo anche al modello francese, a quello che è stato da sempre definito l'assimilazionismo francese e da come è stato messo in pratica e tutte le conseguenze che ci sono state in seguito all'attuazione e all'implementazione di queste politiche. Parliamo di chi uccide un'altra persona è un assassino, chi lo uccide perché l'altra persona è nera ha l'aggravante di essere un razzista perché non dobbiamo avere anche paura delle parole e di riprendercele. In questo senso è quello che provavo a dire prima, l'Italia ha una situazione politica completamente diversa, ha una storia che è una storia di resistenza, ha una storia che nasce dalla lotta contro i fascismi, è una lotta contro i poteri forti che si attua su tutti i livelli. Per questo dicevo che l'Italia è diversa dagli altri contesti, proprio perché e questa è una mia personale idea, per cui stiamo facendo una chiacchierata, quindi il valore è di contribuire a un dibattito, non di avere nessuna per carità pretesa, però l'eredità della resistenza in Italia è quello che ha portato poi ad una Costituzione che sebbene va tutelata, sebbene ci sia un dibattito su questo, sui temi del lavoro, sui temi dell'uguaglianza dei diritti, dell'opportunità e delle libertà, però e dei doveri soprattutto, ma sicuramente questo lascito, che è un lascito forte della resistenza, dell'essere stato un paese con alti tassi di emigrazione, di essere collocati nel Mediterraneo, fa dell'Italia un'esperienza completamente diversa, per cui abbiamo a che fare con fenomeni di razzismi quotidiani, a volte razzismi legittimati anche dal discorso politico, e mi viene da dire dal discorso biopolitico in alcuni casi, ma sicuramente non può essere, dobbiamo fare i conti con la nostra storia, con il nostro essere, essere tali semplicemente. Professoressa, quello che è la notizia di oggi, che ha sconvolto un po' gli animi di qualche d'uno, è l'istituzione dell'ora di cultura Rom in una scuola media di Pisa, questo potrebbe essere un tentativo per cercare di integrare, perché temo che i valori di cui lei parlava poc'anzi siano stati un po' dimenticati, nel senso che la stessa Costituzione per diritto sancisce il rispetto della dignità dell'individuo e la possibilità per lo stesso di accedere alle stesse opportunità, questo ormai non avviene, questo tentativo di integrazione fatto attraverso la scuola, che è un altro punto focale di integrazione e di incontro tra le tante culture che oramai esistono nel nostro paese, ha suscitato un vespaio, non è stata presa forse in modo positivo. Il suo punto di vista, visto che lei è anche una docente, qual è il merito a questa iniziativa? La parola centrale è quella della dignità, sempre e comunque, la nostra Costituzione ce lo ha lasciato e ce lo insegna, per questo per essere riconosciuti in quanto cittadine e cittadini degni bisogna lavorare nelle scuole, io su questo ne sono convinta e credo moltissimo nel valore educativo dei ragazzi e delle ragazze nelle scuole, ma anche dei docenti, ma anche dei dirigenti e delle famiglie, perché quando abbiamo a che fare con la dimensione educativa dobbiamo pensare a questo e dobbiamo pensarci, chi si pone nella riflessione su questo livello, pensarci nell'ottica di un percorso di democrazia e di cittadinanza, che sono parole che purtroppo ci sono state spesso rubate per legittimare, proprio come diceva lei, altri discorsi. L'integrazione è un tema che deve essere affrontato nelle scuole, ma ci vogliono i docenti formati per farlo, perché altrimenti rischiamo di riproporre immagini stereotipate, pregiudizi che non servono e non sono utili. L'introduzione di un'ora è sicuramente uno strumento che nasce in quel caso dalla presenza, quindi da una situazione di fatto che serve a ragionare e a riflettere insieme sul rapporto e sulle relazioni tra le culture in questo caso e per elaborare un discorso interculturale. Però se questo non è accompagnato da altro, se questo non è accompagnato da una dimensione forte della democrazia e della cittadinanza, il rischio grosso è quello di riproporre lo stesso modello, che è quello un po' dell'esotismo culturale, che è quello di conoscere l'altro perché è bello, perché è di moda. Invece dobbiamo ritornare alle origini e capire che l'incontro con l'altro, con l'altra, con quello che consideriamo diverso da noi non è altro che un'esperienza della vita quotidiana, noi siamo fatti di differenza, siamo costruiti sempre in maniera alternativa rispetto ad altri modelli. Quello che secondo me l'ho fatto nelle scuole è veramente più che imparare disimparare, non lo dico io, lo hanno detto sociologhe prima di me, disimparare quelli che sono stati i modelli di riferimento, disimparare un certo modo anche di pensare all'educazione, disimparare come è stato costruito il dibattito interculturale in Italia, riproporre la dimensione della memoria, riproporre la narrazione di quelli che sono stati sempre esclusi dalla narrazione pur se l'oggetto e il soggetto coincidono, quindi ascoltare i migranti, ma soprattutto fare esperienza. Esperienza significa passare attraverso, significa formarsi rispetto a quella che è la vita quotidiana che oggi viviamo, nel nostro caso quelli di essere una popolazione di migranti, riappropriandoci del vero significato delle migrazioni, che non è passare da un paese all'altro, ma è anche allontanarsi da un modello che può essere un modello di riferimento e che non sappiamo se è quello giusto, cioè rimetterci in discussione rispetto ai diversi modelli e pensare alla scuola come un luogo in cui si impara qualcosa, ma dove soprattutto si disimpara. I figli dei figli di questi migranti, secondo lei dottoressa, nel momento in cui dovranno pensare ai loro nonni, li penseranno su un territorio dove sono giunti, come il nostro, o penseranno a un territorio dove i nonni dei loro nonni sono nati? Penseranno ai nonni come dei migranti, penseranno ai nonni che hanno un vissuto che si costruisce in uno spazio migratorio, che è fatto dalla loro storia nei paesi di partenza, dalle radici, dalle tradizioni, dai modi di fare che vengono poi in un rapporto intergenerazionale tramandati. Penseranno ai loro nonni un po' spaesati, probabilmente nei paesi di accoglienza, li ricorderanno confusi e questi mi vengono sempre dai racconti che ho avuto modo di ascoltare dalle persone che ho incontrato, a questi nonni immarazzati rispetto ad esempio alla dimensione linguistica, a come fare la spesa al supermercato. c'era un'intervista molto carina che fece ad una ragazza di 12 anni che veniva dall'Egitto in cui diceva che mia madre era buffa perché non riusciva a dire alla signora del supermercato che voleva comprare delle uova. Li ricorderanno come un nipote ricorda dei nonni, quindi con una dimensione umana molto forte che è trasversalmente attraversata dalla memoria migratoria, dalla memoria migrante. Se per ipotesi io con altri 50 amici desiderosi di conoscere la vita della costa libica perdessi la cognizione e quindi domani magari mi imbarcassi su una nave, su un barcone e mi dirigessi verso la costa libica e riuscissi magari a sbarcare in Libia, secondo lei cosa succederebbe? Diciamo che questo discorso sicuramente lo pensiamo soltanto nelle ipotesi perché al momento non è possibile fare questo tipo di esperienza. La Libia è un paese che veramente conosciamo pochissimo, di cui si conosce poco, di cui è stato costruito un discorso la cui narrazione è stata sempre veicolata, da un'immagine che è dapprima un'immagine coloniale poi un'immagine di un paese amico, poi un paese che si allontana, però io penso alla Libia come un paese in cui ci sono i campi, in cui le donne vengono stuprate, in cui la permanenza nei campi è una delle esperienze più dolorose di cui si possa parlare, è doloroso il racconto mettiamo anche in campo la dimensione della ferita, per cui se fossimo in confidenza io le direi che questa non è una buona idea di andare in questo momento in Libia perché non abbiamo delle politiche internazionali che possano garantire un sereno viaggio, un sereno arrivo diversa è quello che fanno tante associazioni e ONG che lavorano nel Mediterraneo di cui anche lì sappiamo poco, di cui la narrazione è sempre veicolata e probabilmente questo è uno sforzo che dovremmo fare anche come studiosi quello di raccontare e farci raccontare da chi ne ha la possibilità la realtà dei paesi di cui stiamo parlando Quindi professore, non abbiamo delle politiche nazionali adeguate non abbiamo delle politiche internazionali e europee adeguate l'informazione è decisamente deviata, pilotata perché l'immigrato appare sempre e soltanto come una mosca che ci dà fastidio e quindi conseguentemente da schiacciare o da eliminare col DDT per cui all'individuo quali strumenti rimangono per tentare di sopravvivere? Rimane la resistenza, una resistenza quotidiana che è la creazione di modelli di vita quotidiana diversi rimane il continuare ad accogliere che non è soltanto un atto di carità ma è un atto di cittadinanza io penso che non dobbiamo da un lato essere completamente distruttivi rispetto al tema delle migrazioni io penso che dobbiamo fare un atto di coraggio, un atto di dignità che è quello di rimetterci in discussione laddove non ci sono politiche attive sul territorio pensiamo alle migrazioni come un atto di resistenza e di creazione di modelli alternativi la Calabria ha fatto esperienza di paesi che sono diventati paesi con le politiche di ripopolamento ad esempio dei centri storici ma non solo, ci sono tante cose che si possono fare anche capire cosa sta succedendo capire cosa si nasconde dietro la politica dell'emergenza capire come viene gestita questa emergenza perché purtroppo abbiamo a che fare con un mondo io adesso non ho ancora avuto modo di leggere ad esempio tutti gli atti di un'inchiesta come quella di Mafia Capitale in cui un grosso pezzo è costruito sulla gestione dell'emergenza dei migranti tanto si può fare si può fare se si ha semplicemente il desiderio di riconoscersi nel Mediterraneo soprattutto in quanto siamo tutti fragili in quanto siamo tutti al margine questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare infatti dovremmo ispirarci alla carta dei diritti internazionali mi pare che se non ricordo male c'era un certo Giovanni Senzaterra nel 1200 che stabilì i primi diritti dell'essere umano poi nel 48 abbiamo magari recuperato altri valori, altri diritti a questo punto credo che anche noi dovremmo chiedere gli stessi diritti visto che, mi perdoni ma introduco un discorso che è comunque sempre attuale siamo ormai invasi dall'elemento mafioso e questo rende ancora più difficile il rapporto col fenomeno migratorio guardi quando prima parlavo di poteri mi riferivo assolutamente a questo nel senso che quando parliamo di resistenza e di lotta contro i poteri forti la lotta alle organizzazioni criminali deve essere posta ma veramente, non come slogan nel progetto politico che riguarda le immigrazioni noi non siamo così ingenui da pensare che ad esempio dietro ci sono differenze anche di reato ma anche concettuali tra quello che viene definito smuggling il traffico e la tratta sono tre concetti completamente diversi però dobbiamo ricordarci che dietro non è possibile che indietro non ci siano delle organizzazioni criminali e il fatto di avere dei contesti in Italia con, da un lato, il controllo del territorio quello che autrici come Renate Sibert ma anche con Umberto Santino hanno definito signoria territoriale il controllo dei territori che è un controllo sulle risorse, sulle persone su quello che succede nei territori ed è totalizzante dall'altro lato dobbiamo sempre tenere presente che la forza delle organizzazioni criminali è connivenza e convivenza con i poteri con quello che è la ricerca dell'affare con quello che è l'utilizzo della sofferenza strumentale ai fini dell'arricchimento che è un arricchimento economico ma soprattutto di potere la dimensione del potere che è trasversale a tutti questi discorsi che stiamo facendo delle migrazioni così come le organizzazioni criminali deve essere messo a tema nell'agenda politica italiana lo si deve fare con una lotta seria contro le mafie ma una lotta seria contro la corruzione contro la definizione di quelli che sono i poteri forti e che rappresentano la forza stessa anche poi tradotto nei termini dell'accoglienza il migrante che viene sfruttato nella dimensione lavorativa e del lavoro pensiamo a quello che succede nel mondo dell'agricoltura ma non solo pensiamo io mi sono occupata soprattutto di donne e migrazioni a tutta l'elemento anche del badantato stesso che è l'esperienza di cui tutti e tutti facciamo esperienza quotidiana cosa c'è dietro? chiaramente dobbiamo in quanto cittadine e cittadini prima e studiosi poi porre la questione in termini di poteri in termini di accoglienza perché la costruzione e il riconoscimento dell'altro si vive se si è in un contesto di libertà Adorno ci diceva che non esiste emancipazione senza emancipazione di una società e allora rispetto soprattutto all'Italia in quanto collocata e situata nel suo percorso storico ma anche collocata geograficamente la dimensione delle libertà dell'emancipazione dell'eliberarsi prendendo il significato della parola stessa emancipazione liberarsi dalle forme di dominio finché non facciamo i conti con tutto questo purtroppo non possiamo non possiamo definirci completamente democratici molto bene infatti giustamente quando si parla di immigrazione il pensiero corre subito al cittadino nordafricano o comunque medio orientale in realtà trascuriamo un'immigrazione che è giunta dall'est dell'Europa e che ha comunque colmato un vuoto un vuoto sociale cioè quello dell'assistenza agli anziani o dell'assistenza alle persone portatrici di handicap ancora una volta la presenza di questi immigrati ha messo in luce una mancanza gravissima delle istituzioni perché se dobbiamo sperare che arrivi qualche d'uno da un paese dell'estero ad accudire i nostri anziani o i nostri portatori di handicap vuol dire che il paese nel quale viviamo che riteniamo moderno, avanzato e democratico alla fine poi più di tanto non lo è perché se non ci fossero queste figure non so che cosa ne sarebbe dei nostri anziani o delle nostre persone in difficoltà fisiche o psichiche però non è un caso che se ne possa parlare di meno semplicemente perché e lo dico in maniera brutale a noi le badanti servono come il fatto il fatto di costruire un'alterità e non riconoscerla in quanto comunque soggettività migranti deriva anche da questo nel momento in cui lo straniero ci serve siamo pronti ad accoglierlo che poi dobbiamo anche capire come accoglierlo perché se poi andiamo ad ascoltare queste donne riscopriamo dei percorsi di vita che sono percorsi di immane sofferenza sono percorsi di tra virgolette emancipazione che passa attraverso una maternità vissuta a distanza un abbandono di un posto di lavoro un trasferimento del lavoro di cura da un paese all'altro che è qualcosa che noi diamo per scontato ma tutta la tematica del lavoro di cura che è una tematica che a livello proprio di epistemologia femminista è qualcosa di molto forte ma non ci rendiamo conto molte volte che le nostre badanti sono giocatrici di pallavolo sono dirigenti di un'azienda noi tutte queste cose le diamo per scontato non ho fatto esempi a caso sono esempi che vengono fuori da una ricerca che ho avuto modo di condurre proprio sul lavoro di cura noi abbiamo a che fare con delle persone forse dobbiamo dal lago ci parla delle non persone quando pensiamo ai migranti ma dobbiamo riconoscerle come persone che hanno una dimensione privata una dimensione pubblica riprendendo insomma le categorie care a chi studia queste cose la sfera privata la sfera pubblica la doppia presenza e pensare anche a come queste donne siano costrette a vivere una maternità a distanza di come molto spesso le motivazioni alla partenza sono legate ai processi di formazione e di liberazione delle figlie e dei figli e chiaramente quando dicevo le migrazioni sono un fatto politico totale intendevo anche questo pensando all'esperienza delle donne migranti impegnate nel lavoro di cura dobbiamo mettere in relazione i motivi della domanda e i motivi dell'offerta se ragionassimo in termini di mercato anche se è un linguaggio che non mi appartiene però noi siamo in un sistema di welfare assolutamente in crisi per cui è necessaria lei diceva prima come il pane perché siamo veramente in situazioni talmente di fragilità che la necessità di un aiuto non a caso è un aiuto straniero perché poi c'è un costo possiamo chiedere una disponibilità H24 il lavoro di cura è un lavoro totalizzante è un lavoro 24 ore su 24 è un lavoro di corpi di prossimità di intimità è un lavoro duro e noi lo chiediamo a delle donne che sono evidentemente disposte a farlo proprio perché in virtù di quei processi di democratizzazione di libertà e liberazione a cui facevamo riferimento prima e che sono comune a tutte le esperienze migratorie di sicuro è l'esperienza sono delle storie di vita delle donne impegnate del lavoro di cura secondo me sono quelle che servono di più per mettere al lavoro il concetto di riconoscimento dell'alterità nella vita quotidiana in buona sostanza per sopperire a tutte le mancanze che lo stato in cui viviamo ci propone perché alla fine non ci sono ripeto né gli strumenti né le politiche adeguate e adatte ad affrontare e a sostenere la situazione di emergenza che stiamo vivendo diciamo che da un certo punto di vista dobbiamo essere pronti ad una riorganizzazione sociale che metta in campo le abilità e i talenti di chiunque di noi perché mi pare di capire che quello dell'immigrazione sia un business che fa gola a parecchi perché non è solo Roma Capitale ci sono diverse inchieste in corso volte proprio ad accertare la compromissione della malavita organizzata in qualunque forma associativa essa sia che sia mafia andrangheta andrangheta sacra corona unita quello che vogliamo camorra quello che vogliamo ognuna di loro ritengo le mafie transnazionali anche non dimentichiamo che mentre magari facciamo fatica a mettere in campo delle politiche transnazionali le organizzazioni criminali lo hanno fatto lo hanno già fatto a partire dal narcotraffico a partire fino ad arrivare al traffico delle persone della trappa e su questo purtroppo forse non ci sono neanche i mezzi investigativi adatti perché dobbiamo pensare anche a questo di sicuro le mafie parliamo di mafie in generale proprio per intendere il mondo a cui le faceva riferimento prima hanno sempre a che fare con le situazioni di fragilità e di potenziale arricchimento lo è per i terremoti lo abbiamo ascoltato prima lo è per le stragi lo è sicuramente per quando si parla anche di questo nella vita quotidiana è importante di onore e di forza delle mafie beh ci sono basta queste persone hanno a che fare con la vita e con la morte e con i sogni anche dei migranti è il parastato è lo stato parallelo che funziona meglio dello stato ufficiale e beh sì perché se chi è disoccupato purtroppo sia in noi ma in un certo qual senso ce la c'è perché se continuiamo a fare gli struzzi se continuiamo a mettere la testa sotto la sabbia senza capire qual è il vero problema il vero problema non è l'immigrato in quanto tale è un disperato come noi il vero problema è il vuoto totale istituzionale giuridico quello che vuole lei è il vuoto totale è quello che rende difficile l'equilibrio sociale perché la tensione che si sta creando è fortissima si taglia col coltello e purtroppo è destinata a diventare sempre più grave sempre più onerosa per noi cittadini che continuiamo a gran voce a chiedere ma che poco riceviamo in cambio fatto salvo il balletto elettorale perché dalle nostre parti fra un po' ci saranno le votazioni regionali quindi non vi voglio raccontare non vi voglio tediare con inutili aneddoti ma vi posso garantire che ci sono presidi elettorali in ogni dove mi chiedo questi presidi elettorali dopo che fine fanno e non solo i presidi elettorali ma soprattutto coloro che hanno pagato fior di quattrini per metterli su e per mantenerli perché comunque lo sappiamo che funziona così allora da un punto di vista sociale siamo in allarme siamo in allerta siamo in pericolo perché la situazione purtroppo è molto molto difficile da sostenere bisogna cercare di contenere allora da sociologa quali sono gli strumenti che possiamo mettere in campo per contenere questa emergenza possiamo possiamo ripartire partire dagli spazi e dai tempi della democrazia dobbiamo riscoprire anche qui uso un'espressione non mia il piacere della democrazia il piacere di abitare i luoghi di abitare anche quel nulla a cui lei faceva riferimento perché lo dobbiamo lo dobbiamo al nostro essere cittadine e cittadini lo dobbiamo alla Costituzione dobbiamo riconoscerci e riconoscere nelle soggettività migranti dei soggetti rivoluzionari anche se non lo siamo in maniera consapevole e sulle proposte concrete ce ne sarebbero tante da mettere in campo ma basterebbe semplicemente pensare ai corridoi umanitari basterebbe pensare a come viene a riformulare le dinamiche di accoglienza della cooperazione sociale in questo senso per poi arrivare alle proposte di legge vere e proprie ma come diceva lei ci scontriamo con una dimensione del consenso che è un consenso politico che viene espresso in queste ore ma diciamo noi in Italia siamo sempre in campagna elettorale mi vorrebbe da dire in questo momento il dibattito politico è costruito ed è pericoloso io penso che dobbiamo stare attenti alla costruzione del discorso pubblico a quello che è l'insinuazione di alcuni pericoli ma pensiamo in generale alla costruzione sociale delle differenze dell'alterità pensiamo a quella che è anche la considerazione delle soggettività femminili pensiamo a tutto ciò che viene definito che è stato definito e lo ripeto siamo in questa settimana quindi ci tengo a ribadirlo rispetto alla costruzione e alle differenze di genere dobbiamo ripensarci anche in termini di soggetti che resistono e resistono rispetto all'appartenenza rispetto alla dimensione del viaggio delle migrazioni rispetto alla dimensione anche di classe perché dobbiamo rimetterci in gioco in questo senso Dottoressa le faccio un'ultima domanda ma anche una considerazione se lei consente prima il tempo è tiranno stiamo per chiudere in realtà l'aspetto diciamo peggiore il lato scuro di questo fenomeno in alcuni casi può essere individuato come una serie di persone che magari sostituiranno gli elettori che non andranno più a votare è una serie di fenomeno immigratorio che potrà magari recuperare la presenza di figli che gli italiani non fanno più è un aspetto diciamo un po' più oscuro di questo fenomeno che magari andrebbe visto se lei è d'accordo in un altro incontro radiofonico e però credo che sia una considerazione non so se lei la condivide su cui riflettere i cittadini italiani molti probabilmente non vorranno più votare però ci sarà chi si ricorderà dell'ospitalità offerta a un popolo di migranti e magari sarà in grado di riconoscere questo fenomeno questo questo incontro potrà avvenire magari successivamente con il voto sì intanto appunto dobbiamo mettere a tema la questione del diritto dell'elettorato attivo e passivo rispetto ai migranti e quindi con la cittadinanza formale questo è veramente un dibattito che è multidimensionale interdisciplinare perché sarebbe interessante anche capire chi si occupa anche un giurista cosa dice cosa ci può come può contribuire a questo dibattito nel lunghissimo periodo io mi auguro che questi problemi non vengano più posti nel senso che mi piacerebbe un riconoscimento di cittadinanza che non non possa essere legato esclusivamente alla provenienza o ai percorsi migratori dalle singole persone bene dottoressa Garofalo noi dobbiamo purtroppo salutarci siamo giunti al termine del nostro tempo e la ringraziamo grazie di essere stata con noi per questa buona ora ringraziamo la professoressa Sabrina Garofalo docente di sociologia generale docente a 4 ricordiamolo presso l'università di Catanzaro la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro il suo lavoro molto complicato e ci auguriamo come tutti grazie grazie a voi a presto grazie a presto grazie bene Massimo ci sei? si si ci sono benissimo allora andiamo con un aggiornamento si pensava che non ci fossero nemmeno aggiornamenti proprio di rilievo in effetti non è proprio così però insomma ve lo diamo lo stesso il premio di scuola lavoro il premier Renzi illustra in un video del governo la tra virgolette buona scuola e spiega che l'obiettivo è ridurre il 44% della disoccupazione giovanile la cosa più urgente è l'alternanza scuola lavoro perché c'è stato un crollo totale di occupati e un aumento impressionante della disoccupazione giovanile un dato tra i peggiori in Unione Europea più soldi agli insegnanti e non meno e non solo perché da lì dipende l'autorevolezza sociale ma perché è un fatto di giustizia così Renzi spiega il senso dei 500 euro l'anno ad ogni insegnante questa dunque potremmo dire così l'ultima notizia degna un po' di rilievo che ve l'ho voluta dare poi non ne vedo non ne vedo altre sul discorso scuola lavoro sul discorso lavoro mi viene in mente se i lavoratori li lasciassimo andare a casa ad una età come dire giusta cioè normale cioè no farli lavorare fino a 70 anni a momenti che non sanno nemmeno se arrivano vivi alla pensione forse è questo che si voleva fare non ho ben capito sta cosa qua quindi farli andare a casa prima vanno a lavorare col bastone andranno a lavorare col bastone magari i muratori ad esempio andranno sul tetto col bastone ecco ti immagini la scena e questi sono i frutti i frutti del governo i frutti del governo italiano cioè noi che ce li inventiamo noi questo in effetti succede e quindi lasciare più spazio ai giovani quindi si manda a casa prima i lavoratori quando arrivano ad una certa età che è anche giusto insomma che poi alla fine dopo una vita di lavoro quasi che sia anche giusto godersi un po' questa vita o cosa e dare più spazio ai giovani ai giovani che possano trovare subito lavoro e non adottare politiche politiche che non oso definire cioè quella della politica cioè in rente alla mobilità cioè mandare la gente in giro per l'Europa o anche per l'Italia stessa insomma perché devono avere anche la possibilità di seguire la famiglia o più gente grazie a tutti Grazie per la visione!